Buonasera, mi chiamo Filippo e sono qui perché due anni fa mi era venuto in mente di fare uno spettacolo su Luigi Tenco. Quando la sera me ne torno a casa non ho neanche voglia di parlare tu non guardarmi con quella tenerezza quasi fossi un bambino che ritorna deluso sì lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi vedrai è il mio fiore il fiore per Luigi Tenco ciao Luigi ciao se stasera sono qui è venuto in mente di fare è venuto in mente di fare è venuto in mente di fare grazie a tutti grazie a tutti